ecco dopo vari giorni di utilizzo molto intenso abbiamo scoperto il difetto di questo fantastico altrimenti fantastico controller della xbox serie s vedete le levette arancioni ecco si sono inspiegabilmente annerite ora io spero che sia un difetto di costruzione e che me la sostituiscano perché non mi va di tenerla così non mi va assolutamente di avere una un controller già così rovinato vi farò sapere e intanto fatemi contattare l'assistenza